Come molti bambini, da grande voleva fare il dottore, ma se in tanti crescendo cambiano strada, lui quel sogno è riuscito a realizzarlo, laureandosi in medicina e chirurgia e svolgendo per vent'anni la professione di dentista. La politica, direi la verità, ha affascinato Roberto Antonione fin dall'infanzia, da quando il padre lo porta a un comizio di Giovanni Malagodi. Una passione rimasta assopita fino ai primi anni 90, quando scese in campo diventando consigliere regionale con la lista per Trieste. Da lì è tutto un crescendo, nel 96 diventa il primo governatore triestino della regione, dal 2001 entra in Parlamento, ricoprendo anche la carica di sottosegretario al Ministero degli Esteri. Accanto alla politica una miriade di interessi, nel tempo libero Antonione ama praticare nuoto, vela, tennis e pesca, tra le passioni la musica, soprattutto quell'anni 60-70 che suona con la chitarra o ascolta con l'iPod da 20 giga. Non solo, ha letto dieci volte i promessi sposi, perché spiegagli da serenità. Il 7 dicembre festeggerà vent'anni di matrimonio con Maura, un amore coronato dalla nascita della figlia Roberta di nove anni. Parlare bene di se stessi non è una cosa né elegante né una cosa che io riesco a fare. Io credo che gli elettori possono guardare oggettivamente la storia di ognuno di noi, guardare i programmi, i progetti e poi liberamente fare una scelta. Credo che questa sia l'unica cosa che si possa dire, aggiungendo che certo che posso promettere un grande impegno, ma questo penso che sia doveroso.